Stai per gustarti un panino succulento quando l'hamburger scappa sulla maglietta? NOOOOOOO! Tranquilli, ci penso io! Occorrebbe una bacinella con acqua, detersivo per piatti, uno spazzolino e olio di gomito. Procedimento! Bagnare la macchia con l'acqua, metterci il detersivo per piatti, spregarla un po' con lo spazzolino. Passarla al rovescio spregandola, ecco che fa un po' di sfuma. E poi si va in lavatrice. La prossima volta mettetevi il bavaio. MISIONE COMBIUTA I cerchioni della tua auto sono più sporchi dell'oceano? Nooooo! Nooooo! Tranquilli, ci penso io! Occorrenza, comici, sgrassatore, straccio, pazienza e tanto olio di gomito! E' tutto sporco! Pulire, pulire, pulire! Un traccio, sgrassatore, pulire bene, tanto olio di gomito! Un altro poco! Adesso può andare, può andare su! Può andare! Ma perché se non si prendono due fali... Sய enclavano e mi piace per evitare questa cosa? Ecco qua, anche questo è fatto! Mi siete ricompiuta? Ti passo, ecco, faccio! Ecco proprio voi che vi volete far lavorare troppo eh! Non mi volete bene? Ok, vi vediamo un attimo. E' accoltato bene? Perfetto.